La ricostruzione terramana è ancora ferma al palo, soprattutto se si parla di quella leggera, e cioè degli edifici di categoria B, che non parte eppure se partisse potrebbe far risparmiare ingenti somme di denaro pubblico, ma soprattutto permetterebbe rientro a casa di tante famiglie. E questa è la difficile situazione denunciata dall'associazione Robin Hood e l'ex assessore comunale Franco Fracassa. Io vorrei partire subito con il report fra l'USR Marche e l'USR Abruzzo. Lì in 20 giorni ci sono 105 cantieri in più, sono arrivati a superare i 347 cantieri e movimentano oltre i 40 milioni di euro sul territorio. Qui siamo rimasti solo a due cantieri, come sempre, e movimentiamo i 220 mila euro. Quindi, insomma, questa è una proporzione per capire l'economia che nelle Marche riparte, perché un cantiere significa posti di lavoro, perché un cantiere è il libero professionista che lavora, quindi vi è un'economia sul territorio. Voglio fare anche un esempio pratico, perché noi molte volte quando parliamo non riusciamo a far capire alla gente la differenza che realmente vi è. Vi faccio solo un esempio. Noi, comune di Teramo, ero assessore ai lavori pubblici, avemmo una palazzina di nostra proprietà che fu catalogata tipologia B e quindi con danni lievi. Noi intervenimmo subito, abbiamo speso 3.000 euro, abbiamo rimesso nelle abitazioni 13 famiglie. Quando ci sarebbero costate queste 13 famiglie a distanza di un anno, perché è trascorso un anno? Beh, è un conteggio che fa capire, appunto, se era autonoma sistemazione era 156.000 euro, ci sarebbero costati. Se queste 13 famiglie invece optavano per un albergo, ci sarebbero costate 858.000 euro. Quindi queste somme fanno capire bene che questi soldi vengono spesi, ma non nel modo giusto, non per ricostruire, non per far tornare nella normalità il nostro territorio. Una situazione, appunto, ancora complessa, ma quanti terramani ci sono ancora fuori casa? L'entità superiamo i 5.000, ma di terramani che sono alloggiati in albergo, questo è un conteggio che sono riuscito a fare, abbiamo 216 alloggiati che ci costano 9.720 euro al giorno, che ci costano 291.000 euro al mese e ci sono costati 3.500.000 nel primo anno. Le associazioni Arco Consumatori Terramo e Liberi Cittadini 5 Stelle, dopo numerosi incontri fatti, si sono visti a provare da parte della regione Abruzzo le proposte avanzate che hanno di fatto portato all'abbandono da parte dell'ente regionale di procedere con il progetto presentato dall'ingegner Quercio relativo alla messa in sicurezza della risorsa idrica del Gran Sasso, un progetto altamente dispendioso secondo le associazioni che prevedeva nuove opere di captazione e nuovi passanti per accedere al laboratorio per un costo di circa 280 milioni di euro, mentre quello presentato dalle due associazioni a costi notevolmente inferiori e senza creare ulteriori violenze sul Gran Sasso. Torniamo nel merito, come da tempo stiamo lavorando sul sistema idrico del Gran Sasso, sulla messa in sicurezza e su soluzioni che abbiamo dato da tempo e sembra, dall'ultimo incontro fatto con i tecnici regionali e col vicepresidente Lolli della regione Abruzzo, molte delle nostre idee e soluzioni sono state prese in considerazione e potrebbero essere attuate appena il progetto è pronto e si può fare l'affidamento della gara e tutt'altro. Siamo felici di questa cosa. La cosa importante è che abbiamo voluto sottolineare il recupero di alcune sorgenti e di alcune acque di superficie che possono aiutare la Ruzzoreti ad avere quell'acqua che serve per i cittadini. Visto che in questo momento noi abbiamo le acque del laboratorio in scarico e non ne possiamo faruto gli 80-100 litri, noi sul canale di Gronda di Casale San Nicola, da come si vede dalle immagini, abbiamo fatto un sopralluogo con un tecnico regionale la settimana scorsa per far vedere la portata di quell'acqua di superficie che in questo momento può sembrare inferiore perché molte bocchette sono aperte lì intorno a quell'acqua di superficie ma una volta chiuse la portata potrebbe essere importante. Per cui anche i lavori per avere quest'acqua hanno un costo molto basso. Noi dai nostri tecnici con quello che hanno fatto potremmo essere dai 5 ai 10 mila euro, non di più. Per cui potrebbe essere recuperare molta acqua per il territorio ma è tutto il sistema idrico del Gran Sasso che a noi ci interessa comprese le reti idriche della provincia di Teramo perché è importante mettere in sicurezza anche quelli. Partire dal Gran Sasso per arrivare a Tortoreto Giulianova tutto l'impianto deve essere messo in sicurezza e questo la Regione ci ha fatto notare che anche in questo è stata presa in considerazione la risistemazione delle reti idriche della provincia di Teramo. Si è svolta stamane presso la sede della provincia di Teramo una riunione operativa per farlo il punto della situazione in vista della probabile perturbazione che interesserà con neve e bassa quota anche il territorio provinciale. Un incontro con tutti i sindaci del territorio per coordinare azioni e mezzi in caso di maltempo ottimizzando l'utilizzo di mezzi e uomini in uno spirito di collaborazione e sostegno reciproco. Ci abbiamo ritenuto opportuno fare una riunione operativa di coordinamento per quanto riguarda la viabilità provinciale e comunale con tutti i sindaci della montagna. Oggi abbiamo fatto questo incontro che secondo me è stato molto proficuo. Abbiamo messo anche a disposizione le imprese e le strade che le imprese assegnatari dovranno fare la dislocazione delle turbine il numero di telefono dei referenti i contatti che bisogna avere istituzionali per evitare che ci siano sovrapposizioni tutta una serie di situazioni che ci permetteranno nel momento del bisogno di sapere cosa fare e chi contattare. La provincia di Termo era pronta anche l'anno scorso noi avevamo già avuto una prima nevicata quella col ghiaccio rispetto alla quale non solo avevamo fatto tutto quello che dovevamo fare ma avevamo anche aiutato i comuni soprattutto col sale perché la prima ondata fu essenzialmente di gelo e ghiaccio successivamente abbiamo lavorato e abbiamo fatto uscire tutte le ditte contrattualizzate naturalmente la situazione a un certo punto è diventata problematica e difficoltosa sia per la nevigata e sia per l'assenza di comunicazione Nel caratteristico borgo di Monte Pagano al Roseto degli Abruzzi prenderanno il via a stretto giro i lavori di recupero dell'antica torre campanaria risalente al 1400 danneggiata dalle scosse di terremoto che ha interessato il territorio provinciale Terramano nel 2016 situazione che aveva portato ad allontanare dalle loro abitazioni due famiglie visto che le loro abitazioni erano confinanti con la struttura a rischio ma una delle quali è potuta poi rientrare solo dopo l'intervento di messa in sicurezza del campanile è una notizia importantissima per Monte Pagano che aspetta da tempo un finanziamento di 523 mila euro da parte del Ministero dei Beni Culturali che permetterà l'adeguamento sismico e il restauro della torre campanaria di Monte Pagano lavori che prenderanno il via secondo lei? nel più breve tempo possibile partiranno con le gare di appalto perché il progetto è in fase di realizzazione quindi nel più breve tempo possibile partiranno questi lavori proprio un anno fa il 22 di febbraio del 2017 il Sindaco andò a Roma presso il Ministero dei Beni Culturali a chiedere appunto il finanziamento per questa torre campanaria e oggi un anno dopo abbiamo avuto la notizia del finanziamento a Pineto le attività commerciali ubicate in viale della Resistenza Borgo Santa Maria sono in ginocchio e rischiano la chiusura questo a causa a loro dire delle lungaggini dei lavori di rifacimento del ponte Zappacosta che ha portato alla chiusura della strada che impedisce l'accesso nel viale dalla provinciale per altri chiusura che a distanza di tempo sta determinando notevoli danni economici a diversi esercizi visto anche le segnalazioni da parte dei clienti che non riescono più a raggiungere con comodità gli esercizi commerciali noi chiediamo sia all'amministrazione cittadina quindi comunale che all'amministrazione provinciale di esprimere una volta per tutte qual è la tempistica soprattutto di riapertura di questo ponte ma vogliamo delle certezze in quanto anche a livello economico quindi strutturale di abitazione e ne stiamo risentendo in maniera abbastanza marcata diciamo che la situazione inizia a essere preoccupante in quanto i commercianti che hanno i siti su Borgo Santa Maria hanno ultimamente espresso molta indignazione per ciò che si sta verificando quindi il ponte a livello come opera pubblica strutturale è di vitale importanza in quanto oltre a collegare la frazione di Borgo Santa Maria con Atri e con Bineto collega un po' tutta la movimentazione che il luogo ha e quindi mi riferisco alle persone che comunque si veicolano sul territorio e mi riferisco anche a quello che comunque è l'attività commerciale che comunque si sta deprimendo notevolmente soprattutto in questi ultimi due mesi domani sera ci sarà un incontro con tutti i commercianti della zona e quindi a quel proposito prenderemo delle iniziative sia verso l'amministrazione comunale che comunque verso gli istituti pubblici che devono prendere delle decisioni per quanto riguarda proprio questo annoso problema il progetto di recupero dell'antico teatro romano a Terum sembrerebbe essere arrivato alla fase conclusiva nonostante ad oggi non si sia svolto nessun incontro con cittadini ed associazioni per la presentazione definitiva del tanto atteso progetto una riqualificazione che partirà dalla demolizione di Palazzo Adamoli e Casa Salvoni i due edifici che si trovano ridosso dell'antico teatro e che negli anni hanno fatto molto discutere anche per la loro pericolosità ora accentuata con il terremoto lavori che porteranno i resti del monumento di età imperiale ad essere completamente coperti da una struttura in vetro e acciaio Intanto è il progettista che deve ancora far vedere il progetto alla sovrintendenza se il progetto è quello che va in gira è uno scandalo totale perché non può essere che venga fatto un altro scandalo come è stato fatto a Piazza Sant'Anna e a Madonna delle Grazie noi come associazione ma insieme a Marco Pannella che io non mi stuferò mai di ringraziare perché ci è stato sempre vicino non è che abbiamo lottato inutilmente la città ha lottato inutilmente per avere questo scembio questa cosa non passerà faremo le barricate perché è il progetto che noi abbiamo contestato già da 23 anni fa che loro sperando nella memoria corta perché c'è un gruppo di affaristi purtroppo come in tutte le città che sta aspettando il momento opportuno per fare scembio ripeto del nostro teatro romano il teatro romano va soltanto era già stato progettato dal sottosegretario Cecchi che il Brucchi strappò c'era stato fatto un cronoprogramma fu approvato dal Consiglio Comunale nel 2010 prevedeva esclusivamente l'abbattimento dei due caseggiati incongro e il recupero della cavea se devono fare affari come purtroppo hanno fatto fino a oggi adesso basta perché noi non ne possiamo più e ripeto faremo le barricate perché è un modo di agire indecente e mancanza di rispetto verso la cultura e verso la città da Teramo arriva la denuncia di un episodio di razzismo verso una studentessa universitaria di colore che secondo l'unione degli studenti universitari sarebbe stata insultata e rispinta dalle possibili e future coinquiline solo per il colore della pelle davanti al silenzio della padrona di casa una situazione su cui il rettore Luciano D'Amico ha annunciato di aver avviato un'indagine interna per capire bene cosa si è successo pensare che nel 2018 una ragazza non venga accettata in un appartamento solamente perché di colore e poi non possa quindi frequentare di conseguenza i corsi all'università è una cosa molto triste noi come associazione non abbiamo esitato un attimo a denunciare ciò che è successo nel momento in cui siamo stati contattati nel momento in cui tornano a diciamo soffiare eventi xenofobi e razzisti non possiamo che metterci dalla parte di chi assolutamente è da difendere non può essere lasciato inermi di fronte a certi comportamenti come Eudutermo e questi valori sono sempre sulle vicine alla nostra associazione l'antirazzismo e la voglia di annunciare questi fatti non possono che essere quello che ci spinge ogni giorno a fare associazione a fare gruppo e a rappresentare appunto i più deboli e coloro che appunto vengono rifiutati per motivi prettamente razzisti come Unione degli Universitari abbiamo subito denunciato il fatto che gli organi centrali dell'università non sono rimasti fermi e consci della collaborazione dell'università non ci tireremo indietro nel momento in cui sarà necessario ancora testimoniare quanto accaduto ora cercherete di dare una mano a questa ragazza? cercheremo sicuramente di esprimere la massima solidarietà sia a lei e ad altri casi simili non faremo in nessun modo scivolare questa cosa purtroppo a seguito di questi episodi notiamo come sia sempre più difficile per una ragazza di colore integrarsi in una cittadina che comunque dovrebbe fare dell'integrazione dell'università un punto di forza anziché un punto di rottura con quelle che sono le nuove prospettive purtroppo in questo caso siamo stati tenuti a segnalare il tutto e speriamo che episodi del genere non si ripetano più ma saremo pronti ogni qual volta succeda a segnalarli dopo la diffida presentata dal comune di Notaresco alla regione Abruzzo sulla questione relativa allo svuotamento dei rifiuti della discarica di Grasciano presto inizieranno i lavori di rimozione dei rifiuti dell'impianto ex CIRSU questo è quanto emerso oggi dal tavolo in prefettura oggi iniziamo a sorridere dico perché sarà ecco il primo sorriso dopo tre anni perché oggi c'era già in programma una riunione presso la prefettura e ringrazio veramente personalmente a nome della mia municipalità il prefetto e il questore perché ecco in questo tavolo già programmato è venuto fuori che ecco è alla firma l'ordinanza questa ordinanza farà darà luogo a due estensioni uno al fatto che dovranno essere rimosi tutti i rifiuti dell'impianto CIRSU è la seconda battaglia che vince un territorio perché per la prima volta anche dopo la lettera della ASL si evince che questo sito può creare danni alla salute pubblica e all'ambiente circostante le tempistiche? allora io credo così il tempo delle notifiche entro il 30 marzo secondo l'ordinanza tutti i rifiuti dovranno essere tolti se così non fosse perché ecco giustamente da oggi tutto è finito però l'ordinanza una volta messa in campo genera degli effetti se chi dovrà fare non farà quello che dovrà fare la regione si sostituirà e rimuoverà penso con una garetta ecco troverà chi rimuoverà i rifiuti per il gestore che non è stato adempiente una foto che poteva sembrare surreale ed aveva fatto il giro dei social un cane solitario sperduto su una vetta innevata ad oltre 2000 metri d'altezza una storia resa nota dall'ente parco nazionale del Gran Sasso il 4 febbraio scorso quando un escursionista stava salendo al pizio di Moscio a 2411 metri di altezza nel comune di Valle Castellana sulla vetta innevata vicino alla croce di ferro incrostata di ghiaccio ha visto da lontano un cagnolino solo senza collare l'escursionista lo ha fotografato e ha postato la foto sulla pagina Facebook del parco nazionale l'ente parco ha subito lanciato sul social network un appello al padrone ma intanto i carabinieri forestali della stazione di Rocca Santa Maria sono partiti per ritrovare l'animale dopo alcune battute infruttuose ieri sono riusciti a rintracciarlo è un maschio di razza lagotto romagnolo molto spaventato e debilitato privo di microchip il cane è stato subito rifocillato e visitato dal veterinario e portato al canile sanitario dell'Asle di Teramo a Castelbasso non avendo però il microchip è considerato cane vagante e quindi è pronto per essere adottato Dottor Pucella le condizioni del cane come sono? Buone buone abbiamo già provveduto a effettuare un trattamento contro i parassiti interni ed esterni è ancora molto spaventato come ovviamente è giusto che sia certamente qualunque cane entri nel nostro canile inizialmente mostra segni di disagio però poi il tempo di ambientarsi è tutto torna nella normalità la notizia più importante è che già ci sono tantissime persone che vogliono adottarlo sicuramente sì abbiamo avuto un paio di richieste stiamo valutando attendiamo poi normalmente una visita da parte di queste persone interessate inizialmente Grazie a tutti.